Io prima voglio salutare un amico, anche lui è un esempio, è stato qua qualche volta in trasmissione, si chiama Marco, è un campione. Marco ha avuto una giovinezza segnata da tante difficoltà. Lui è diventato un campione, ha vinto una sfida importantissima, soprattutto nella vita, perché ha coronato poi anche tutta una serie di momenti importanti, tra cui anche il suo matrimonio. Però la cosa importante è che lui poteva finire per strada, lui poteva scegliere una via sbagliata quando era giovane, invece è stato davvero bravo, aiutato anche dalla sua famiglia, è diventato un campione nello sport e un campione nella vita. Marco Maddaloni, guardate. È così bella l'armonia Io, tra fiori freschi e viaggi, io sono tornata sempre, fortunatamente in tempo, per renderti la luna. Che mi dai, inconsapevole mi dai, senza chiedere mi dai, arriviamo dove vuoi. Hai qualcosa dentro di te, che funziona, che funziona, che funziona. Hai qualcosa dentro di te, che ripara quando tutto sembra fine. Ciao Marco! Ciao Maria Teresa Ruta! Allora, io la voglio raccontare così, la tua storia, perché tu hai detto delle parole fortissime che mi hanno colpito. Intanto, vabbè, complimenti per il matrimonio, per la felicità e tutto quanto. Però, tu sei un uomo anche che ha sofferto, un ragazzo che ha sofferto tanto, eh? E che attraverso questa sofferenza è riuscito a salvare se stesso e a salvare anche tanti altri ragazzi del suo quartiere. Guardate. Terra mia, terra mia, terra mia, com'è bella la bontà, terra mia, terra mia, com'è bella la bontà. Non è vero, non è sempre stessa, tutti i giorni può cagnare, oggi è dritta, rimane storta, è che sta vita sana va. E vecchia vanno rinta a chiesa, va come una patria. Allora Marco, è emozionante leggere queste frasi, eh? No, sì, io poi ascoltavo anche quello che dicevano le persone prima, che sono degli angeli veri e propri, è che io sono stato fortunato che ho avuto una famiglia dove mi ha insegnato cosa è il giusto e cosa è sbagliato, dove mi stavano vicino e cercavano di tirarmi per le orecchie quando vedevano che stavo per sbagliare. Ma come diceva prima un ragazzo nell'RVM... Cosa significava sbagliare in quel quartiere? Ma sbagliare a volte uno crede che ci vuole tanto, ma non ci vuole niente perché si inizia ad entrare in un negozietto e prendere una Coca-Cola, aprirla, bere e non pagarla. Una volta che tu hai fatto un gesto del genere, capisci che puoi fare qualunque cosa senza essere punito e poi alzi sempre poco poco il tiro. E allora la famiglia lì già ti comincia a vedere tu con chi frequenti, che personaggi esci la sera, esci il pomeriggio e ti cominciano a tirare le famose orecchie che dicevo io. Il ragazzo che prima nell'RVM parlava diceva proprio questo, diceva che lui non ha avuto una famiglia e già non avere una famiglia, magari invece poi averla, ma averla anche che il padre sta in carcere e lui ha un esempio un po' negativo da seguire, lo porta su una cattiva strada. Allora Maria Teresa, saluta Corrado Tedeschi, ciao Corrado, in collegamento con noi. Ciao, ciao Leonardo, buongiorno a tutti, ciao. Allora Maria Teresa, queste storie sono fortissime perché sono degli esempi, perché poi lui è diventato un campione e fra l'altro aiuta tanti altri ragazzi a non sbagliare. Cioè i ragazzi adolescenti che lui porta nella sua attività, nella sua palestra e li avvicina al senso dello sport, ai valori dello sport e li toglie dalla strada. Per cui questo, oggi ho voluto Marco proprio perché Marco è un esempio. Marco è un grande esempio di vita, è un campione ed è uno che ha ammesso anche le volte in cui ha sbagliato e questo è stato anche molto importante perché raccontando, come diceva giustamente, se tu non sei punito vai oltre, vai sempre oltre. Tutti i ragazzi sbagliano, soprattutto nell'adolescenza, io parlo per i miei, ci mancherebbe, perché vogliono provare una certa ebrezza. Lì ci possono essere i genitori presenti, le istituzioni, gli amici, gli amici sbagliati. Quante volte gli amici sbagliati, quante volte io ho dovuto controllare gli amici. La presenza dei genitori è fondamentale. In molte famiglie c'è un solo genitore. Abbiamo sentito delle storie prima molto toccanti di padri che sono rimasti senza nulla. Ecco, anche lì un pensiero. Noi donne a volte sembriamo multitasking, che riusciamo a fare tutto, ma non dimentichiamoci mai che durante le separazioni i nostri figli sono quelli che perdono di più. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione, mantenere dei buoni rapporti, cercare di dare amore, perché soltanto l'amore può salvare, sicuramente. Corrado, tu hai due figli, no Corrado? Sì, sì. Ecco, hai insegnato loro a non sbagliare nella vita. Che genitore sei? Che voto ti dai come genitore? Un buon voto, devo dire. Magari come compagno sono stato insufficiente, ma come padre mi do un buon voto. Non ho mai detto fai questo, non fare quello, non fare questo, non fare quello. Ho lasciato che fosse l'esempio di una persona vicina a influenzare i loro comportamenti. A me c'è una frase che mi ha colpito molto, Eleonora, di quel ragazzo che vive per strada a Roma, che ha detto che la società mi sta scartando. Che società è una società che scarta gli esseri umani? Che lascia indietro quelli più bisognosi? Che società è? Cos'è? Dio? La società? No. Ecco, quindi ci sono due categorie secondo me fondamentali. Guarda, e non credo di esagerare, ci sono quelle persone, ecco questo ragazzo qui. Ci sono delle persone meravigliose che tu hai avuto in studio e da quelle dobbiamo prendere esempio. E c'è un'altra categoria, e scusate se li tiro in ballo, ma che sono i cani. Queste persone vivono sempre con dei cani. I cani non giudicano, danno amore, stanno lì, sono fondamentali per queste persone. Dovremmo imparare a comportarci come loro, ecco.